Sono Marco Bugiani, candidato sindaco per il centrodestra per Carcinaia e vi presento la mia squadra. Mi chiamo Claudio Petacchi, ho 59 anni, sono logotenente dei Carabinieri, attualmente in pensione. Ho deciso di appoggiare la lista per portare un cambiamento dopo 70 anni di amministrazione di sinistra. Mi chiamo Deborah Sforza, ho 42 anni, sono dipendente presso un banco di alimentari al mercato. Appoggio la lista di centrodestra perché credo in progetti reali e realizzabili. Quindi ce ne ammetteremo tutta per far sì che il nostro comune ingrani una marcia diversa e incominci veramente il vero cambiamento. Daniele Ranfagni, ho 33 anni, sono un impiegato e lavoro in un'azienda metalmeccanica qui della zona. Ho deciso di appoggiare questa coalizione perché con la lista civica per la gente di cui faccio parte abbiamo trovato degli intenti comuni e quindi abbiamo deciso di portare avanti questi intenti attraverso questa coalizione. I temi comuni che abbiamo deciso di portare avanti sono la sicurezza, lo sport, il sociale e tutti i temi che comunque stanno a cuore a Calcinaia. Sono Fabio Morelli, ho 64 anni, sono pensionato e appoggio la lista Buggiani perché hanno un buon programma di lavoro per cambiare il comune. Salve, sono Alessio Preta, ho 36 anni, nella vita svolgo l'attività di ingegnere civile come libero professionista. Appoggio la lista di 100 del centro-destra a Calcinaia di Marco Buggiani perché ha un programma ben definito, concreto, fatto da obiettivi ben raggiungibili e quindi un vero impegno nei confronti dei cittadini. Sono Angelica Benigni, ho 49 anni e al momento sono disoccupata. Sono qui con Marco Buggiani perché penso che per i nostri figli finalmente ci sarà qualcosa di meglio nel futuro. Sono Stefano Mancino, ho 39 anni, lavoro come operatore a Portuale a Peretola, all'aeroporto di Peretola. Sono qui per sostenere Marco Buggiani, questo è un cammino che ho intrapreso quattro anni fa, essendo il primo militante dell'allora Lega Nord sul comune di Calcinaia. Sostengo il centro-destra, sostengo il programma di Marco Buggiani e mi impegno personalmente a promuovere la cultura e il turismo nel nostro territorio. Sono Cartasegna Valettina, sono qui per appoggiare la lista di Marco Buggiani perché credo nella famiglia e nel valore che sa, riportandola al centro della nostra cultura e della nostra società. Caterina Crimeni, ho 43 anni, sono di origine calabrese e dal 2012 vivo qui a Calcinaia. Mi sono avvicinata alla lista civica per la gente e nell'ultimo periodo anche alla centro-destra con Marco Buggiani. Appoggio questa coalizione perché faccio parte di un'associazione e vedo quelli che sono i problemi, le questioni dei cittadini, delle associazioni e del territorio. Marco Buggiani, ho notato che è una persona che sta con la gente, parla con la gente. Questa cosa mi ha colpito e anche la lista per la gente come Marco Buggiani stiamo col cittadino e quindi sono con lui. Salve, sono Fonte Francesco, 37 anni, geometra. Appoggio la lista di Marco Buggiani col centro-destra perché mi piace l'idea del cambiamento e un programma sincero fatto per i cittadini. Salve, sono Guigge Serena, sono estetista e ho deciso di candidarmi perché sono fornacestese d'occa appunto, da generazioni e in questo comune ne abbiamo viste tante. Credo quindi ci sia bisogno di un cambiamento radicale, però un cambiamento comunque con i piedi per terra, con un programma che si possa mettere in atto partendo dalle cose che attualmente abbiamo, migliorandole. Salve, mi chiamo Marco Gambini, sono un insegnante di un liceo scientifico pisano e io fra le forze che appoggiano il candidato afferisco a Forza Italia e ho deciso di candidarmi perché spererei questa volta, visto che siamo tutti uniti, di riuscire a prendere il comune di Calcinaia. Mi chiamo Olga Ziselska, ho 36 anni e mi occupo del laboratorio metrologico. Sono qui per portare la mia esperienza maturata nei processi che riducano gli sprechi gestionali e amministrativi e inoltre il motivo principale per cui sono qui è integrazione e miglioramento della immigrazione perché c'è molta carenza sul territorio. Quindi sono qui per appoggiare il Bugiani e la lista di centro-destra. Salve a tutti, mi chiamo Marco Salvini, sono ingegnere, nella vita mi occupo di gestire i costi di aziende e di una multinazionale. Cerco di dare il mio contributo massimo per Marco Bugiani in modo da poter far sì che questo comune abbia una gestione più mirata e più oculata delle spese. Mi chiamo Valte Dalmonte, collaboro con l'agenzia immobiliare di Ponte d'Era, abito a Calcinaia da una vita. Mi candido per vedere, mi sono già candidato diverse volte, sono stato candidato a sindaco nel 2009 e ci proviamo quest'anno con questa lista di gente molto volenteriosa e preparata per vedere di cambiare il sistema di questo nostro comune.